Stadio Cannelle senza collaudo lo rivelerebbe una missiva della ditta di costruzioni della costiera amalfitana a poco meno di una settimana dall'inaugurazione della struttura. Il legale rappresentante della D'Angelo Costruzioni con sede ad Amalfi così scrive Da circa dieci anni siamo in attesa della liquidazione delle spettanze per aver compiuto con appalto del Comune di Ariano il campo sportivo polifunzionale in località Cannelle, struttura che sabato prossimo sarà inaugurata alle ore 10.30 in occasione del Trofeo delle Regioni Master 2016, però citando ancora la lettera della ditta il secondo lotto non risulta ancora collaudato in pendenza delle riserve espletate nel corso dei lavori. Allo Stato attuale, dopo vari contatti con l'Ufficio Tecnico Comunale, il legale rappresentante scrive di non aver ricevuto risposta se non promesse di voler pervenire alla soluzione buonaria dell'avvertenza già avviata con procedura di arbitrato proponendo di riceversi solo la somma di 500.000 euro anziché quella maggiore già segnalata nella procedura di arbitrato. La ditta aggiunge anche di non aver potuto saldare fornitori, operai e maestranze, subendo, a causa del mancato incasso, ulteriori procedure che hanno comportato l'esproprio e la vendita all'asta dei propri beni immobili. Si annuncia battaglia dunque nelle sedi opportune. Intanto, in attesa dei chiarimenti dell'amministrazione comunale, riportiamo la dichiarazione dell'assessore allo sport, Mario Manganiello, sul quotidiano del Sud. Si potrebbe trattare solo di un problema relativo a collaudi amministrativi. Tutto il resto è a posto.